Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 4 del periodico 26 gennaio 2024. I nostri oliveti sono in fase di riposo vegetativo e in questa settimana le temperature si sono abbassate anche a meno 6 gradi centigradi. Si presume però che non abbiamo avuto danni da gelo perché abbiamo avuto giorni soleggiati e umidità relative molto basse. Nei periodici delle settimane scorse abbiamo parlato della necessità di attuare delle lavorazioni superficiali dei terreni, sia dove c'è l'innerbimento e sia dove c'è il terreno nudo, per andare ad arieggiare gli strati leggermente superficiali del terreno, per eventualmente interrare dei fertilizzanti che non si sono apportati in post raccolta e adesso aggiungiamo che sono propissi anche come attività di contrasto a due particolari coleotteri, lo ziorinco e il maggiolino. Da sempre sono stati considerati parassiti minori dell'olivo, però quei cambiamenti climatici che abbiamo avuto in questi ultimi anni in alcuni areali creano danni anche notevoli sia all'apparato radicale degli olivi ma sia anche alle chiome andando ad erodere le foglie. Per quello che riguarda le radici ecco che le lavorazioni superficiali portano queste larve in superficie e naturalmente muoiono per il freddo. Nel caso in che non si potesse attuare questa pratica e i nostri terreni ne siano infestati, è possibile ricorrere a dei nematodi entomoparassiti e adesso riportiamo anche il nome del genere che è un po' difficile, Eteroraptitis bacteriofora, il prodotto commerciale si trova facilmente nelle rivendite. Questi nematodi una volta che sono stati portati nel terreno entrano nel corpo delle larve, vi si nutrono, emettono delle tossine e le larve muoiono. Nel momento in cui questi nematodi non trovano più alimento dalla larva stessa escono dal cadavere e vanno alla ricerca di nuove larve vive. Questi nematodi non sono parassiti nei confronti delle radici degli alberi. Per i danni invece che vengono effettuati sulle foglie, particolarmente per l'ossiorinco che è facile rilevarlo perché provoca delle rusure a lunetta sulle foglie, è possibile ricorrere anche in questo caso con delle azioni agronomiche andando ad avvolgere il tronco degli alberi con dei manicotti. È possibile anche che si possano utilizzare gli effetti di eventuali trattamenti inseticidi che si fanno contro la tignola o contro la mosca dell'olivo, considerando però che sia l'ossiorinco che il maggiolino sono due coleotteri molto resistenti agli inseticidi e poi hanno anche abitudini notturne. Un prodotto che funziona bene e che è utilizzato ampiamente nell'agricoltura biologica è l'asadiractina che ha azione sia repellente e sia inseticida. È citotropica anche e limita notevolmente la popolazione sia dell'ossiorinco che sia del maggiolino. La notizia che possiamo dare è che dal 15-12-2023 questo prodotto, che il nome commerciale è Loikos, è stato registrato anche a contrasto della mosca dell'olivo e della dasineura. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un buon risentirci alla settimana prossima.